Allora io vi suono un po' queste cose che sono un po' prese dai vari cd che ho fatto negli anni e se questo che ho appena suonato era una cosa appunto che ha più di dieci anni adesso invece volevo farvi ascoltare un po' un brano recente, più recente dell'ultimo mio cd poi il cd si chiama Mani, anzi no, si chiama Mano nella mano e la canzone si chiama Mani però insomma al di là di tutto è un cd in cui io suono perverentemente cose strumentali però mi piace lo stesso provare a voler dire qualcosa con queste melodie, con queste canzoni e un po' il filo conduttore di tutto il cd è appunto questo Mano nella mano non tanto inteso in senso anche se volete romantico così ma invece più che altro per così mettere l'accento su quello che per me è un primato che è quello della relazione, relazione a 360 gradi quindi con mia moglie, con i figli, con i parenti ma insomma guardiamo il giro, gli amici, i conoscenti in realtà un po' con tutti quanti penso che sia la cosa su cui investire di più sia proprio questa a livello di energie e di tempo e questo allora appunto si intitola Mani grazie a tutti 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 Grazie a tutti